Archiviato il procedimento nei confronti di tre carabinieri che aiutarono l'ex Jeep di Bari, Giuseppe De Benedictis, a trasportare in una villa alla periferia di Andria parte del suo arsenale da guerra. I tre, secondo la conclusione a cui è arrivato il pubblico ministero di Lecce, Alessandro Prontera, erano ignari della tipologia di armi imballate. La decisione è arrivata da parte del Jeep di Lecce, Giulia Proto. I tre militari finiti sotto inchiesta, uno di loro è ormai deceduto, dovevano rispondere dell'accusa di porto e detenzione di armi e munizioni. De Benedictis aveva spiegato al caporal maggiore dell'esercito Antonio Serafino di aver provveduto nel 2017 a trasferire le armi che già deteneva tra Molfette e Biceglie, dove risiede il padre della moglie, grazie alla copertura di alcuni carabinieri. E infatti oltre 200 tra armi e munizioni da guerra vennero trovate nel maggio 2021 nella villa dell'imprenditore andriese Antonio Tannoia, ora in carcere per scontare la restante parte di una pena definitiva a otto anni. Per questa vicenda l'ex Jeep è stato condannato con sentenza passato in giudicato a nove anni e tre mesi di reclusione. Attualmente si trova però agli arresti domiciliari perché è stato sospeso l'ordine di carcerazione per motivi di salute.